Ci troviamo all'esterno della Vitri Frigo Arena a poche ore dall'attesissima gara 3 dei playoff della VL. Alle 20.45 infatti la Carpegna Prosciutto Pesaro di Coach Banchi proverà ad allungare la serie di questi quarti di finale che al momento sono sul 2-0 in favore della Virtus di Scariolo dopo i due match giocati a Bologna. È un match attesissimo, un match di playoff che non si vedeva al palazzo da dieci anni, ma al di là del prevalente aspetto sportivo queste sono anche le ultime ore di calma prima di una Vitri Frigo Arena nella quale ci sarà un via vai praticamente non stop e H24 ipoteticamente fino a domenica sera se la VL dovesse guadagnarsi anche gara 4. È una partita che però arriva dopo una complessa gestazione per far conciliare questo match di basket di playoff con la convention di Tecnocasa concomitante a questo evento che porterà 10.000 presenze qui a la Vitri Frigo Arena ed è immediatamente conseguenziale alla fine della partita. Lo staff di Tecnocasa lavorerà di notte per riuscire ad allestire la convention senza inficiare la partita di basket, incastri che sono stati esaminati dalla commissione di vigilanza che si è appena conclusa. È andata bene, c'è un evento dentro l'evento, Tecnocasa ha iniziato a montare tutte le strutture che gli serviranno per l'allestimento della convention già da lunedì, oggi ovviamente è sospeso, nel frattempo noi abbiamo rimontato il campo da basket all'interno del catino dell'arena, tutto bene, ci sono solo dei travi, tralicci sospesi che non vanno a interferire minimamente con quello che è né l'assetto di gioco né soprattutto la presenza del pubblico, la commissione di vigilanza provinciale ha dato l'ok, abbiamo la struttura disponibile per la partita della VL a capienza massima. Dunque non inficia la partita e si riesce a creare anche la concomitanza con l'eventuale gara 4? Sì, non ci dovrebbero essere problemi, anzi non ci saranno problemi, è ovvio che il condizionale d'obbligo è quando si lavora, però nel momento in cui questa sera la VL dovesse vincere come ci auguriamo tutti quindi andare a gara 4, la convention terminerà la sera di sabato e la nostra struttura, i nostri addetti inizieranno lo smontaggio e in contemporanea di nuovo il montaggio del campo per rendere fruibile già domenica per la VL e per la Virtus che si dovrà ovviamente allenare. Ora spazio al basket e a queste ultime ore dedicate all'acquisto dei biglietti per riempire la Vitri Frigo Arena come nelle migliori occasioni del basket pesarese. Coach Banchi nella conferenza pre-gara tenutasi presso il main sponsor Banca di Pesaro ha anche strizzato l'occhio all'abbraccio dei tifosi per far durare più possibile una serie play-off conquistata con un'incredibile rincorsa dall'ultimo posto in classifica. Come detto speriamo di avere una prestazione che sia consona anche a una cornice di pubblico che mi auguro possa essere il giusto tributo ad una squadra e una città e un club che hanno fatto grandi sacrifici per essere qua a giocarsi la post-season. La realtà è che ci piace l'idea di ritrovare l'abbraccio dei nostri tifosi, il loro calore e spero che questo sia da motore e da spinta a far sì che la squadra offra un'ennesima prestazione di alto profilo che ci permetta di giocare una partita degna di uno scenario di questo tipo senza dimenticare l'orgoglio che c'è, la soddisfazione che c'è di giocare un play-off scudetto contro la squadra prima classificata e da poco tempo capace addirittura di vincere l'Euro Cup però non vogliamo essere solo spettatori e vogliamo dimostrare che questo possa essere un punto di partenza e questo un palcoscenico dove pian piano con il tempo e la continuità a Pesaro possa ritrovare confidenza.